AAAAAAAH! AAAAAH! AAAAAH! Ma che razza di cazzo! Ma che razza di modi dico io! Orcodio! Ses, ses! Secondo te cos'è che ci ha fatto sopare? I soldi rubati alla regina? L'esplosione della sua vagina? Comunque sia, questa volta l'hai fatta scorreggiare davvero di brutto! Non credo che ci rifaranno scopare! EFASME! Erare! EFATTI! AAAAAH! Quanto vorrei vedere che faccia farà la regina nel momento stesso in cui farà sesso! Bene, rivediamo il pene! Così non rischi di mandare tutta la fanaculo! D'accordo! Primo, soncheiamo la minochina! Dopodiché portiamo il nostro cazzo fino al colo di sua maestà! LOL! LOL! Non se l'aspettiamo! ELEVATEME DI TORNO! Idiota! Dio idiota! Dio idiota!